Aria nuova a Wolfsburg dopo la cacciata del padre padrone Felix Magath la settimana scorsa. I lupi non sono più fadanino di coda in Bundesliga dopo il nettissimo 4-1 a Düsseldorf contro il Fortuna. Il più felice della dipartita di Magath sembra Diego, l'ex juventino che certo non era tra i preferiti del tecnico, sembra essersi sbloccato segnando il rigore del 4-1 e mettendo anche un assist. Diego è arrivato al Wolfsburg dopo la sfortunata esperienza juventina, aveva litigato pesantemente con Magath venendo mandato in prestito all'Atletico Madrid. Dopo otto giornate senza brillare la carriera sembrava ancora una volta destinata a essere bloccata, si dava infatti per certo il suo allontanamento a gennaio. Sicuramente la defenestrazione di Magath non ha fatto versare neanche una lacrima al fantasista. In una intervista al giornale tedesco Bild ha dichiarato infatti di essere estremamente contento. Le sue dichiarazioni sono inequivocabili, finalmente ci siamo liberati dalla dittatura di Magath, siamo coscienti di poter fare molto meglio, ora giochiamo e basta, senza aver paura di fare errori come succedeva prima. Kostner merita il rispetto dei giocatori, gli ha restituito la fiducia, questo ha fatto la differenza. Penso sia intelligente, capace, lo abbiamo capito subito quando si è presentato alla squadra. Il Wolfsburg è ancora in zona retrocessione, ma se riuscisse a ritrovare il faro del centrocampo, come è successo sabato all'Espri Arena, uno dei talenti inespressi del calcio europeo potrebbe tornare in auge.